Io vi chiedo solo una cosa, se ci sarà da chiamare il popolo siciliano, non perché dovete venire dietro a noi, se ci credete, per chi ci crede, non è che è obbligatorio venire, attenzione, per chi ci crede, perché questa volta chiameremo i negozianti a chiudere per un giorno, questa volta ci sarà lo sciopero totale, dico totale, chiameremo gli studenti universitari, chiameremo gli studenti delle scuole, chiameremo tutti, le donne, venite con noi, le donne devono venire con noi, le nostre mogli, le madri di famiglia, questa volta devono venire con noi, la spallata deve essere totale, perché se non ci sono risposte c'è solo una strada, prendo gli la casa e torniamo alle urne in Sicilia, perché dobbiamo dare un messaggio a tutta l'Italia, a tutta l'Italia, perché la Sicilia questa volta deve farsi capoviva perché ha alzato la testa, che è strana sta cosa, ci hanno guardato tutti con attenzione in questa settimana di scioperi, in questi 15 giorni e un mese, ci stanno guardando tutti con attenzione, ma che sta succedendo in Sicilia? Alla fine del mondo, è troppo bella, questa sì è una pagina di storia, l'avevamo anche scritta nel volantino, se l'ho andata a leggere un mese fa, vogliamo scrivere una pagina di storia, non ci aspettavamo che fosse così, ma l'abbiamo scritta, ora la vogliamo continuare, abbiamo scritto solo la prefazione a questa pagina di storia, ora scriviamo quella vera, perché da qui deve partire forse dalla rivoluzione siciliana, deve partire un'Italia diversa, ma prima di tutto deve partire una Sicilia diversa, per scrivere un'altra pagina e per cominciare a scrivere il futuro nostro, dei 50 anni, dei nostri figli e dei nostri nipoti, il futuro lo dobbiamo scrivere noi, per chi ci crede e ci vuole venire, attenzione, non è obbligatorio, lo ripeto, ma se ci credete dobbiamo andarci, a Palermo dobbiamo andarci, ci organizzeremo da qui a giorno 5, 6, vedremo quale sarà la data, ma a Palermo dobbiamo andarci tutti, stavolta la Sicilia deve andare a Palermo, noi vi diciamo credeteci, per una volta, dico per una volta, tanto alla fine che può essere, gli hanno le vacanze, ce lo prendiamo, ma sarà un giorno in cui potremo dire tutti io c'ero, io c'ero e scriveremo veramente questa pagina di storia, grazie.